Due cittadini di Polla, Massimo Cancro e Giuseppe Mediteri, sono scesi in campo dopo alcune denunce soprattutto sui social per ripulire la piazza dedicata ai caduti del lavoro nei pressi del centro storico del paese. Erba alta, incuria, rifiuti sparsi un po' qua e un po' là e altre problematiche minori sulle quali il comune non era ancora intervenuto nonostante le richieste soprattutto sui social. L'appello era arrivato dallo stesso Massimo Cancro che già l'anno scorso occorre aggiungere, ripulì la piazza il primo di maggio. A lui questa volta si è aggiunto anche l'ex consigliere Giuseppe Mediteri, insieme hanno ripulito la piazza, tagliato l'erba. Abbiamo dato, dicono, il nostro personalissimo contributo, adesso invitiamo il comune a far ritirare la spazzatura che abbiamo raccolto e il comune non si è fatto pregare, tanto è vero che già nella giornata di ieri ha provveduto a ritirare i rifiuti e si spera, ma non c'è dubbio, provvederà anche a tenere pulita e con decoro questa piazza dal significato così importante.